Andrea Angelo, questo era il suo nome di battesimo, nacque il 12 agosto 1922 a Castellinaldo, Cuneo, Piemonte, terzo genito di otto figli. Cresce in un ambiente di messa quotidiana, di recita del Santo Rosario, di pratica sacramentale e soprattutto di relazione con suore e sacerdoti di alta qualità spirituale. In questo ambiente sano, di famiglia, egli matura una identità cristiana forte. Il fratello Risbaldo dice di lui, mio fratello Andrea non sapeva cosa fosse il rispetto umano, non ha mai nascosto la sua fede e la sua pietà, con estrema semplicità faceva quel che credeva di dover fare senza curarsi degli altri. Nella sua biografia si legge che partecipò come alpino alla seconda guerra mondiale. In realtà è vero, nel 1942-20 anni fu arruolato nel quarto reggimento di artiglieria alpina e in piena estate parte per il fronte russo. In caricato delle vettovaglie, il nostro beato però non sarà mai in prima linea, ne parteciperà agli scontri diretti. Dopo aver patito fame, sete e ogni sorta di privazione nei vari campi di concentramento anche in Siberia, riuscì alla fine della guerra a tornare in patria insieme al fratello. Come diventò religioso Cottolenghino? Dopo questa esperienza bellica, Andrea sente il fascino della vita religiosa e il desiderio di consacrarsi al servizio dei soffermi. Il 23 luglio 1946 fa così il suo ingresso al Cottolengo. Al postulantado inizia una vita di preghiera e di pratica della carità, assicurando l'igiene dei malati, le medicazioni, l'assistenza ai pazienti gravi, la pulizia dei barboni e dei malati immobilizzati a letto. Si presta volentieri a lavare i piatti, pulire i pavimenti, lavorare nei campi. Dopo un anno entra in oviziato e indossa per la prima volta l'abito dei religiosi Cottolenghini, sulla cui talare nere è appuntato un cuore di panno rosso all'altezza del petto a sinistra. Alla vestizione Andrea prende il nome di fratello Luigi della Consolata, ed ora in poi sarà sempre chiamato fratello Luigi. Nel gennaio del 1966 avviene la professione perpetua. Chiamato il gigante buono per la sua corporatura robusta, si presta volentieri a ogni tipo di servizio. Di poche parole, con il sorriso e il volto sereno, riusciva a infondere sicurezza e fiducia. Diviene presso l'infermiere più richiesto dagli ammalati, dalle suore, dai medici, perché esperto, efficiente, sicuro, riservato. Colpito dall'eucemia, fratello Luigi si addormenta appiamente nel Signore il 25 agosto 1977, a 55 anni. Che cosa ci può dire, eminenza, delle sue virtù? Devo dire che alcune testimonianze sono veramente commoventi per la loro semplicità e schiettezza. Ad esempio, un suo confratello dice che fratello Luigi ha vissuto la sua vocazione e tutte le virtù inerenti in forma superiore alla mia e a quella degli altri confratelli. E un altro aggiunge, fratello Luigi è stato un grande uomo. Nel pregare si comportava come un vitellino quando succhia il latte. Si capiva cioè che ne godeva, che era attirato dal Signore e da lui corrisposto. E un laico ribadisce, le virtù religiose, ma anche umane, di fratello Luigi erano eccezionali, di gran lunga, superiori alle nostre. Fratello Luigi viveva veramente di fede. Da ragazzo, nei gula sovietici, nel suo apostolato tra i malati, egli aveva sempre Gesù nel cuore. Questa vita a due con il Signore lo portò a mettere al centro della sua missione Cristo crucifisso ed eucaristico, da adorare, pregare, amare e servire nei fratelli bisognosi. Che cosa possiamo dire della sua attività caritativa? Aggiungerei qualcosa sulla sua carità proprio. In fratello Luigi non erano tante le parole e nemmeno le azioni a manifestare la carità di Dio, quanto la sua persona, il suo atteggiamento, la sua presenza, che manifestavano amore, misericordia, comprensione. Un medico ad esempio racconta, ricordo una notte di un ultimo giorno di dicembre, in cui egli voleva offrire il suo sangue per una paziente affetta da una gravissima emorragia, operata in ex chemis, fu salvata grazie soprattutto alla generosa donazione di fratelli. La sua esistenza, dice un altro testo, fu una continua discesa da Gerusalemme a Gerico per soccorrere ogni sorta di uomini colpiti nel corpo e nello spirito. Era veramente un buon samaritano come Gesù.